Federico Rossi ha avuto un incidente in acqua, ma cosa è successo? Come sta ora il cantante? I dettagli all'interno Federico Rossi ha avuto un incidente in acqua ed è stato ricoverato d'urgenza, ma cosa gli è successo? E come sta ora? Nell'articolo le foto e i video pubblicati dal cantante. Leggi anche, Francesco Renga e Ambra Angiolini, perché si sono lasciati? Quanto sono stati insieme? Quanti figli hanno? Come si chiamano? In che rapporti sono oggi? Federico Rossi incidente in acqua, cosa è successo? Federico Rossi ha avuto un incidente in acqua, il cantante ha provato a fare wakeboard e si è schiantato contro una pedana galleggiante. I presenti hanno intuito subito che si fosse fatto male e infatti è stato portato d'urgenza in ospedale. Per fortuna niente di grave, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'incidente, come sta ora? Federico Rossi, dopo l'incidente in acqua, ha ripreso possesso del suo telefono e pubblicando un post a scritto, attualmente Federico si trova collegato ad alcune flebo e a una parte del braccio fasciata. Dovrà recuperare le forze e rimettersi in sesto, ma poteva andare molto molto peggio. Per ora, dopo l'incidente in acqua, sembra si sia solamente rotto tre costole. Lo schianto è stato abbastanza forte, come si evince dal video pubblicato da lui stesso. Fortunatamente il cantante ha scampato ogni pericolo e ora dovrà solo vivere serenamente la sua convalescenza. Foto e video di seguito Foto e video riportati da Federico Rossi, https2.com. It, WP Content, Uploads, 2022, 07, Federico Rossi incidente in acqua. MP4 Foto, chiocciola Federico Federossi, IG, seguici su Instagram cliccando qui.